Quando la cedro pizzica la figa, la bocca si la sienti zuccarata. Allora, stavo dicendo, stupendo capito, sono come la Cresma, io alla Curia non faccio il certo pocato, in Cresma, e girammo dal 1267 al 2005, non si trovava questo certo pocato in Cresma, allora che è successo, poi ho fatto mente locale, quando sono andato a Cresmarmi, mi sono confessato, con la mentira stessa, e c'era un prete ricchiato, un prete totale, hai curato un cagare a ricchiuti, non posso tanto così, i peccati, ci siamo fatti tutti i peccati del mondo al tuo cuore, di rubare e uccidere. E' un cazzinello importante fuori, che ci vuole destino fuori, non ti vediamo a parte del cuore, non è vero, perché ti sei suicidato verso Dio, hai rubato lato per Dio. No, come sta mangiare la cura, dovete stare alti, dovete stare a me? Un paio di Dio me erano, stavo, un ufficino e vede un ufficino che da terra, ciò che, c'era un ufficino, e sono sp egliato, che! A me? A di Dio! Che! A me? Che! Contagliare, che! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.